Ripeto, come ho detto prima, non bisogna tirare fuori questi argomenti perché sarebbe cercare altri. Quindi noi dobbiamo pensare al campo. Il campo non ci sta dando a cambiare, noi siamo pensati proprio che non stiamo facendo le cose bene, bisogna tirareci fuori più presto così. Qui passano le partite, è più difficile. Anche oggi non era facile, se non riusciamo a arrivare al primo tempo sapevamo che per loro andava bene anche il Fari, quindi non riusciamo a arrivare al primo tempo, cosa diventare difficile.